Buonasera a tutti, continuiamo questa sera la carrellata delle patologie che sono legate anche alla stagionalità. Questa sera vorrei parlarvi di ragadi delle dita. Per ragadi in questo momento intendo praticamente quelle fissurazioni, quelle spaccature che si formano come dei taglinetti solitamente intorno o sulla punta delle dita o tutta intorno dove c'è l'unghia. Sono molto dolorose perché poi si rimarginano con difficoltà e dovendo lavorare o bagnarsi le mani diventa sempre un problema. Sono soggetti alle ragadi tutti praticamente però prevalentemente le persone che soffrono di pelle molto secca di disidratazione o di perdita di sali di elasticità. Quindi rimedi naturali che potete utilizzare per prevenire e per curare queste ragadi fastidiosissime. Innanzitutto tenere utilizzata sempre una buona crema mani che sia tipo una crema barriera perché oltre a idratare deve proteggere dagli agenti esterni. Esistono quelle a base per esempio di omega 6 che fanno un film protettivo sulla nostra pelle. Ricordate che le creme idratanti devono essere appunto idratanti e non ungere. Ungere significa semplicemente formare una barriera ma se poi non riescono a penetrare non idratano il nostro strato e quindi non vi aiutano per niente. Altra diciamo accortezza che potete utilizzare è l'utilizzo di prodotti naturali che favoriscono l'elasticità della vostra pelle. Se siamo soggetti a queste spaccature possiamo utilizzare per esempio dei sali di Schussler a base di silicia oppure con del fluoruro di calcio. Sono sali che rendono la nostra pelle più elastica e vanno a creare proprio il sostegno, l'impalcatura insieme al collagene. Esiste anche il collagene sempre per uso orale come derivazione naturale che potete acquistare tranquillamente nella vostra farmacia di fiducia. In questa maniera potete tranquillamente rendere meno sensibile la vostra pelle su queste spaccature. Se però siamo arrivati a questo punto, non abbiamo messo la crema delle mani, non abbiamo preso il collagene, fa un freddo cane e abbiamo già la fissurazione a livello delle dita, potete utilizzare un rimedio cicatrizzante a base di acido borico e cere naturali. Queste creme sono delle creme molto grasse, vengono applicate ungendo molto intorno a questo taglio e magari infilando un guanto di cotone in modo da tenere l'applicazione e l'impacco per tutta notte. Fate queste applicazioni per due o tre sere e vedrete tranquillamente che la vostra pelle torna nuova. Un suggerimento, queste creme vanno bene non solo per le ragadi delle dita delle mani. A volte vedo persone che soffrano di questi tagli anche durante la stagione estiva per una eccessiva disidratazione e hanno queste fissurazioni a livello dei piedi sui talloni. Basta indossare il calzino di cotone e fare un bel impacco sul tallone. Sono creme efficaci, non hanno effetti collaterali, fatevi consigliare dal vostro medico o dal vostro farmacista di fiducia. Buona serata!